Ciao a tutti, in questo video vi faccio vedere come ho realizzato questa The Shroud Mod sulla mia RX 6700 XT Reference. Partiamo col dire, che cos'è questa mod? Consiste nel rimuovere completamente la copertura frontale di serie della scheda e rimpiazzare le ventole stock originali con ventole più performanti che possono anche essere più grandi di quelle stock. Difatti, come state vedendo dalle foto, io ne ho messe due da 120 mm. Perché fare questa mod? Beh, semplicemente perché così facendo andiamo a migliorare le prestazioni termiche della scheda e miglioriamo notevolmente anche la silenziosità. Navigando in rete non ho trovato nulla di simile per questo modello di scheda. Così ho deciso di realizzarlo io, poiché, secondo me, ne ha proprio bisogno considerando le alte temperature di questo modello Reference. Per eseguire questa mod bisogna semplicemente montare questo adattatore che ho realizzato proprio per questo modello. Ci tengo a precisare però che non è compatibile con altri modelli di schede. Questo adattatore ci consegne di montare sulla scheda due ventole da 120 mm. Se volete realizzarlo anche voi, ho caricato questo modello su KALS 3D. Lo potete scaricare da lì se siete interessati, vi lascio il link in descrizione. Questo video è diviso in due parti. Nella prima parte vi mostro tutto il materiale che occorre e come assemblare questo adattatore. Nella seconda parte invece vi faccio vedere nel dettaglio come montarlo sulla scheda passo per passo. Vi lascio al video e buona visione. Vi lascio al video e buona visione. Grazie a tutti. 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 Ciao a tutti. Grazie 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 a tutti.